Da Mogliano a San Polo, da Montebelluna a Vittorio Veneto, in tutta la provincia si sono registrati raid di furti e tentati colpi nelle abitazioni. Un periodo dell'anno, questo, dove maggiormente i ladri entrano in azione. I carabinieri hanno messo in campo numerose pattuglie che presidiano giorno e notte il territorio. Stiamo mettendo in campo come comando provinciale di Treviso tutta una serie di risorse anche aggiuntive. I nostri carabinieri, i nostri colleghi del quarto battaglio di dimestre in questo ci stanno dando supporto, soprattutto nelle zone della provincia che in questo momento risultano essere le più colpite. È fondamentale, spiega il tenente colonnello Turrini, avere la collaborazione dei cittadini. È fondamentale la collaborazione dei cittadini, quindi l'invito è proprio quello di segnalare al 112 eventuali presenze sospette, in modo che è da poter intervenire sia con un'attività proprio di contrasto sul momento in flagranza, sia con un'attività di prevenzione perché ovviamente sulla base delle segnalazioni possiamo orientare le nostre pattuglie presenti sul territorio nella zona interessata in quel momento da queste scorrerie. A San Polo e nei comuni di Mitro Filadri hanno fatto irruzione in alcune abitazioni. Proprio nella serata di ieri se ne ha verificato uno qui a San Polo di Piave, ma altri 4 nel comune di Ormelle e 3 nel comune di Cimadolmo. Quindi è proprio un'azione appunto diffusa che storicamente purtroppo si verifica in questa fase dell'anno. C'è anche chi ha deciso di postare sui social le immagini dell'irruzione di un sgradito visitatore nella propria abitazione. Si vede quando salta il cancello indisturbato e poi entra in casa. L'appello del sindaco. È fondamentale riuscire ad avere una rete capillare anche di occhi e di segnalazioni, anche per le cose più semplici. Ecco, meglio una segnalazione in più piuttosto che una in meno.